Dopo l'elezione del presidente della provincia di Salerno, ora è la volta del consiglio provinciale per il quale si voterà il prossimo 3 febbraio. Mi auguro che ci sia un'affluenza e una partecipazione democratica e quanto dichiarato da Franco Alfieri, capo staff della segreteria di Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania. Ma io non faccio mistero, io sono uno che era innamorato della vecchia provincia, elezione diretta del presidente, dei consiglieri provinciali, la vecchia provincia che aveva un suo bilancio, una sua competenza e che credo ci manca e che credo sia stata una riforma sbagliata. Ma dobbiamo ragionare con quello che è, con quella che è la situazione reale. Una elezione di secondo livello, credo che non ci siano problemi per una affermazione del centro-sinistra. Mi auguro che ci siano rappresentanze adeguate e competenti sui territori e che tutti i territori siano rappresentati in maniera equilibrata e quindi che ci sia un'affluenza e una partecipazione democratica. Quindi tutti i consiglieri comunali e i sindaci si rechino a votare a Salerno il 3 febbraio e che si possa riavviare questo ente che ha competenze importanti sul territorio e che soprattutto il legislatore riveda le competenze e soprattutto dia risorse finanziarie che in questo momento sono state attribuite soltanto della Regione Campania.